Musica 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 Ragazzi, questa nostra missione è davvero una missione impossibile Musica è una penalty challenge dobbiamo riuscire a segnare almeno un gol e in porta ci sarà lui Musica 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 Facciamo paura eh Noi che entriamo in campo così spavalde Un capitano più bello che tu abbia mai avuto giusto? Assolutamente sì Carichissimo, ma ti io tiro forte Ce l'hai i guanti di bello? Siamo pronti? Io ci credo ragazzi Io ho fiducia Musica Ti muorca ragazzi, ti muorca Musica Musica E dicono che lo sport va bene Musica 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 La mission impossible è stata superata. Ma ricordate, la vera mission impossible Dead Reckoning parte 1 dal 12 luglio vi aspetta al cinema.